Ciao a tutti, oggi parliamo di pensieri intrusivi. I pensieri intrusivi sono una delle conseguenze dirette dell'ansia, anche se spesso chi li vive non li mette immediatamente in relazione all'ansia, ma vive una reazione di paura rispetto a questi pensieri. Come funzionano esattamente? Vediamo che si intrufolano nella nostra mente, nel nostro flusso di pensieri razionali, lo interrompono e portano la mente a viaggiare su un binario differente rispetto al normale svolgimento dei pensieri di cui siamo abituati. Sono incontrollabili e imprevedibili, poiché si presentano e prendono possesso della mente senza che apparentemente ci sia una causa specifica a scatenarli. I più frequenti di questi pensieri sono i pensieri legati alla sessualità, come per esempio l'omosessualità, atti sessuali violenti o perversi, pensieri di atti aggressivi o omicidio, soprattutto se cruento, pensieri relativi alla religione come per esempio la paura di bestemmiare in chiesa. I pensieri strani o intrusivi non sono altro che una conseguenza di uno stato d'ansia, ma anche di un periodo di stress fisico e mentale. Quando siamo in ansia semplicemente perdiamo il controllo dei nostri processi mentali che cominciano a viaggiare da soli senza un filo logico o, secondo binari, assolutamente irrazionali. Un problema per le persone che soffrono d'ansia e che spesso vogliono forzare se stesse e smettere di pensare a quelle strane idee che si formano continuamente nella loro mente. Purtroppo l'esperienza diretta e gli studi specifici hanno dimostrato che se si tenta di non avere un pensiero si ha in realtà più probabilità che questo pensiero ritorni. Dimostrarlo è molto facile. Ti faccio un piccolo test su te stesso per capirci meglio. Prova a chiudere gli occhi e per cinque secondi a non pensare a una mela. Fatto? Ok, hai pensato alla mela. Evitare un pensiero specifico, come vedi, è impossibile, a meno che non si vada a lavorare attivamente sulle cause che lo hanno generato. I consigli utili per controllare i pensieri strani e intrusivi. Accetta i pensieri. Il primo passaggio obbligato per il controllo di questi pensieri è quello di accettarli. Hai bisogno di permettere a te stesso di avere questi pensieri senza preoccuparti che ciò vogliono dire e senza chiederti se sarai in grado di controllarli. Accettare quindi che questo tipo di pensieri siano causati dall'ansia e che non significano assolutamente nulla. Non importa quanto violento, quanto sessualmente esplicito o semplicemente strano possa essere il tuo pensiero. L'ansia provoca ogni sorta di pensiero strano. Due, sottovaluta il pensiero. Un'altra strategia efficace è quella di sottovalutare il pensiero. In questo modo se si attribuisce meno valore il pensiero provoca meno paura. Tre, scrivi ciò che pensi. Il tuo cervello odia l'idea di dimenticare le cose. Ecco perché è una buona idea scrivere ciò che stiamo pensando da qualche parte. Non preoccuparti di ciò che significa il pensiero o quello che dice su di te. Basta annotare su un pezzo di carta quello che ti sta passando nella mente per osservarlo successivamente come persona appunto esterna. Il consiglio di annotare pensieri strani può sembrare in contrasto con il consiglio di svalutarli perché in genere scrivere qualcosa significa dare ad essa una maggiore importanza. Descrivere su carta invece i pensieri strani e le scene che si formano davanti ai tuoi occhi quando si impreda di pensieri intrusivi ti permette di dare maggior sfogo all'ansia ma soprattutto ti permette di razionalizzare sui pensieri che stai facendo in questo momento. Ora ti faccio le mie conclusioni. I pensieri sono solo pensieri e perciò sono impossibili da controllare. I tre step che sopra ti ho indicato possono aiutarti veramente a dare meno importanza a questi pensieri cercando di accettarli svalorizzando e scriverli. Purtroppo non è possibile impedire completamente ai tuoi pensieri di tornare. Le strategie che ti ho proposto possono ridurre il problema ma per ritornare a vivere in maniera serena e senza pensieri negativi devi affrontare una questione molto particolare. La tua ansia. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile metti mi piace e iscriviti al mio canale.